buongiorno e buona giornata e buona domenica a voi tutti 14 giugno 2020 bene cari amici come ho fatto per la partita tra Juventus e Milan ora andiamo ad analizzare la gara tra Napoli ed che si è svolta ieri sera a porte chiuse allo stadio San Paolo di Napoli gara che devo dire la verità è stata secondo me migliore rispetto a Juve Milan sotto vari aspetti soprattutto per quando riguarda il ritmo di gioco l'ho trovata davvero piacevole la partita poi gara che è stata sbloccata praticamente subito al secondo minuto da Christian Eriksen tanto ecco che ogni tanto ciume ne vado all'altro lato vabbè torniamo a noi poi Dries Mertens al 41esimo suastis di Lorenzo Insigne trova l'1 a 1 che sarà momentanea poi definitiva e quindi permette al Napoli con un pundeggio totale di 2 a 1 di andare ad affrontare mercoledì 17 giugno allo stadio olimpico di Roma sempre porte chiuse la Juventus e quindi di conseguenza Gattuso allenatore del Napoli ha una ghiotta occasione opportunità perché se dovesse battere la Juventus quindi il Napoli guadagnerebbe di diritto un posto in Europa League ma andiamo comunque a a dare magari qualche statistica della partita di Napoli e Inter per esempio il possesso palla ha visto un vantaggio diciamo un 39 a 61 tiri pensate 7 a 16 per esempio nel primo tempo i diri erano 4 a 8 nel secondo 3 a 8 quindi questo già vuol dire che il match è stato abbastanza bello per esempio ecco sempre nel primo nella partita in generale tiri in porta 2 a 9 tiri fuori 5 a 7 attacchi questo in generale 84 a 126 punteggio finale x quotato ha altre tre volte la posta e diciamo che per quanto riguarda il le due squadre come ho detto già all'inizio sicuramente ovviamente quindi rispetto a Juventus e Milano ci sono due rovianici diversi per l'Inter diciamo che a questo punto quindi c'è un margine diciamo di sette giorni rispetto alla sfida che dovrà recuperare credo sabato prossimo in casa contro la Sampdoria e Napoli non mi ricordo se ha un recupero comunque ho detto Napoli che ha la ghiotta occasione beh certo sicuramente la Juventus non sarà lì a guardarsi nel cielo diciamo così cercherà ovviamente di rifarsi dopo si e oggi i bianconeri hanno passato il turno contro il Milan però come detto da me nel video di ieri appunto che San Ronaldo è un po' sotto tono poi e comunque una finale Juve Napoli che come sentivo alla televisione è una finale bis nel senso che ora non mi ricordo l'annata comunque si è fatta già questa finale qualche anno fa o un paio d'anni fa di Coppa Italia e beh per me ovviamente che venga il migliore poi ora è un po' presto comunque arriverà anche per Juve Napoli il video con il pronostico intanto io vi consiglio vivamente qui nel mio canale di consultare i vari contenuti ricordo che a partire da ieri sera più o meno c'è il mio video con i pronostici dell'evento speciale Pay Per View che si svolgeranno la notte tra oggi e domani dalla WWE Backlash poi ci sono le varie recensioni della settimana SmackDown, Raw, NXT, All Elite di tutto e di più e poi infine voglio ricordare come sentito appunto in tv che è mercoledì oltre alla finale tra Juve e Napoli al recupero di Serie B di cui anche per lì andremo a fare un video ho separato insieme a quello della finale di Coppa Italia Juve e Napoli ma mercoledì 17 rigolerà l'anniversario della straordinaria vittoria dell'Italia contro la Germania per 4 a 3 beh, forse magari io non ero neanche nato probabilmente sì, non ero neanche nato beh, vi saluto a voi tutti vi auguro una buona giornata una buona domenica qui a Trani il tempo è bello soleggiato meglio così sicuramente le spiagge saranno protagoniste in questa domenica io invece tra un paio di ore mi faccio una bella passeggiata e tra un pochino mi approfitto per così continuare il mio campionato con il Catania la PES 2009, la Playstation 2 Slim che insomma più o meno la stagione sta andando bene va, siamo a terzi però essendo che è un campionato corto 12 squadre ogni partita è come se fosse una finale quindi poi vi aggiornerò su questo ora di fatto le ultime tre partite prima del calcio mercato invernale le ultime due di campionato di andata e poi il ritorno dei quarti di finale di Coppa Nazionale contro Lazenchi bene, grazie a voi tutti di un buon proseguimento di domenica buona giornata saluti alla prossima ciao ciao